Salve ragazzi e bentornati con un prossimo video Oggi è lunedì che vedrete perché c'è un vlog Ragazzi oggi non avevo niente da inserirvi nella programmazione Quindi ho detto ma perché non farci un piccolo vlog preparazione natale E avviso speciale di Natale Si ragazzi perché questo video che vedete sarà l'avviso allo speciale Prima cosa a base che ho avuto di cominciare Quindi senti perché c'hai la camicia? Io sono appena tornato dalla recita di Natale della mia scuola Ho cantato E magari scrivetemi nei commenti Se per il prossimo vlog ovvero giovedì Vorreste vedere una clip della mia recita Ok quindi per giovedì registro il vlog E ditemi se vorreste vedere un clipino della mia recita Magari vi carico la canzone che ho cantato da solista Si chiama Imagine di John Lennon Chi è che non la conosce Si chiama Imagine e ho cantato io da solista E il coro mi accompagnava E se volete che io carichi questa clip sul canale Magari arriviamo a 35 mi piace Ragazzi per questo infatti vedete Un po' la faccia stanca Sono un po' rosso Perché infatti faceva Molto di caldo al dentro Visto che abito vicino alla scuola Quindi sono tornato I miei genitori sono usciti E ho detto vabbè Prendiamo l'occasione all'altra vista Registriamoci sto vloggino E chi si è visto si è visto Quindi ragazzi oggi Vi avviso tantissimo Vi avviso Vi devo avvisare per due cose La prima cosa Un avviso allo speciale di Natale Che ho registrato la settimana scorsa Ragazzi quel video deve arrivare a 150 mi piace Allora vi dico solo che non sono da solo Non sono da solo Non siamo solo due persone Non tre persone Ma siamo più persone Quindi vi dico solo questo Che non siamo neanche tre persone Siamo di più di tre persone in quel video Ci ho messo davvero tantissimo tempo A registrare quel video Perché uscì fuori una registrazione Di tipo mezz'ora Ci ho messo tantissimo ad editare quel video Perché ci dò una registrazione di mezz'ora E ci dovevo far uscire fuori un video di 10 minuti Su Sony Vegas tipo mi stava esplodendo il computer Perché tipo mi mise alle 10 di sera E tipo rimasi lì fino all'una di notte E mi stava esplodendo tipo il computer Perché diceva basta Vedevo la CPU che era tipo a 200 E praticamente il mio computer non ce la faceva più Ci ho messo due notti e una mattina Per completarlo Infatti la mattina non andai neanche a scuola Perché non mi svegliai neanche Praticamente perché Cioè non mi sveglia neanche Quindi l'acqua va sempre bene Rega ho cantato Copri qua la mattina Ci ho messo un casino per editare quel video Quindi voglio che quel video arrivi assolutamente Immediatamente A 150 mi piace Sono d'obbligo E lo troverete dal 24 dicembre sul canale Il 24 dicembre ore 13 In punto sul canale Perché io lo speciale di Natale Non lo carico mai a Natale L'ho sempre caricato il 24 Non so perché Perché ovviamente il 24 è il giorno che mi ispira di più Perché sapendo che il giorno dopo è Natale Non mi ispira di più Quindi ragazzi Lo speciale di Natale che ho registrato con le persone Lo troverete dal 24 dicembre ore 13 Sul canale Praticamente ore 13 sul canale Voglio che quel video superi i 150 mi piace immediati Perché raga Attilati io non faccio più queste cose Non facciamo più Non è la rischio e gusto challenge Non è la post it challenge Non è qualcos'altro Non è niente Non è un riso E una cosa davvero davvero carina Mi sono davvero divertito Ci sono stato un sacco di risate Abbiamo riso tantissimo E ho riso anch'io Editando quel video Infatti c'era anche mia sorella davanti a me Mentre lo stavo editando Ci siamo fatti tipo Delle risate davvero davvero A bestia Voglio che guardate tutto quanto il video Durerà 13 minuti e mezzo Credo E adesso lo renderizzo Quando finisco di registrare questo video Anzi quando finisco di editare questo video Renderizzare questo video Fare l'ambinatura di questo video Renderizzerò lo speciale di Natale E poi ve lo caricherò L'ambinatura già l'ho fatta E' diventata davvero figa Poi Il video non ancora lo devo renderizzare Non so perché ho preso il telefono Guardate che ora sono Che ora sono Sono le 6 e 30 Come potete vedere dall'anteprima Sono le 6 e mezzo E io non mi sono ancora spuggiato Vedete Sono ancora vestito Sono imberacato frascido Tipo di sudore Quindi lasciamo stare Adesso mi vado a fare una doccetta Perché tipo non ce la faccio più Dopo ho fatto la doccia Vengo qua Edito questo video Poi dopo editare questo video Renderizzo lo speciale Natalizio E vi carico magari Se questo video Se questo logino Supera i 40 Mi piace Vi carico uno spoiler Vi carico un bello spoiler Vi carico uno spoiler Dello speciale di Natale Magari vi carico Una foto Sfocata a mille E ve la carico Sulla pagina Facebook Magari Ditemene con me Se vi è piaciuto questa idea Ho sputato per il suo marito Quindi Signori Spero che questo video Vi sia piaciuto Sono fatte le 6 e 31 Quindi 6 minuti di durata Questo video Signori Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Se volete vedere La clip Di Magin Che ho cantato Alla recita Natalizia Che è finita Un po' Che minuto fa Spero che questo video Vi saluto Ci vediamo Con un prossimo video Bella